ciao a tutti come procede questo momento di forzata permanenza con noi stessi beh siccome non tutti i mali vengono per nuocere potremmo anche scoprire che magari visto che durante l'anno si corre i ritmi spesso sono elevati per tanti di noi e potrebbe essere un momento in cui riscopriamo anche che il piacere di laminiere da soli andando a riflettere su tutta una serie di aspetti della nostra vita magari cercando anche una correzione su determinate cose forse potrebbe anche tornare utile detto questo cerchiamo di tirarvi su un po di morale non è facile me ne rendo conto allora dicevo che io sto visionando tutti quanti i provini che avete mandato non disperate se per il momento non avete ancora ricevuto nessun tipo di riscontro ma sappiate che ovviamente il momento di emergenza che non gioca a favore della velocizzazione di questo progetto naturalmente ci mette davanti un tempo tampone chiamiamolo così motivo per il quale io sto rallentando un momentino anche tutta la realizzazione e anche le chiamate per cui se non avete ancora ricevuto un follow up come si dice non disperate perché sicuramente lo riceverete quindi volevo soltanto tranquillizzarvi perché quello che avete fatto è apprezzabilissimo grazie per il vostro impegno e grazie soprattutto per la vostra grande partecipazione un bacione rimanete lì e ricordate continuate a guardare la pagina di voci fm perché ancora arriveranno tanti altri copioni o meglio tanti altri provini script sui quali potrete eventualmente proporre la vostra candidatura un bacione grazie